La zincatura meccanica di Grover Metal. Finiture di ultima generazione anche per conto terzi. Grazie per la visione! Rivestimento anticorrosivo eseguito con prodotti originali McDermid, per rendere i prodotti resistenti alla corrosione durevoli, uniformi e di elevate prestazioni. Grover Metal abbraccia la teoria di sviluppo economico sostenibile, che non nega la crescita ma la inserisce in un progetto divenuto prima di tutto un dovere nei confronti dell'intera umanità. Grazie a tutti!